Se andiamo a prendere il simbolo di un problema, non ci sono più presi. Come ho fatto? Non è possibile. Ti sta accomando che sta rovinando la riunione? Non sto rovinando niente io. Allora, facciamo un po' il punto della situazione, no? Allora, quindi avevamo... Potevamo dare un'occhiata, se era possibile, il materiale che abbiamo girato ieri. Forse se avete girato ancora stamattina, forse vi può dare una mano così come voi. Magari. Mentre fate l'imperatura... Tu lo fai sempre, dico. Mi fai ciampare. No, ma sei un talento? Eh, è un talento così. Non fila a destra. No, non c'è. Sì, Americanist X, capito? Non so, ma c'è. Non c'è. Non c'è un talento così. Non c'è un talento così. Non c'è un talento così. No, sì, ieri siamo stati in Paese, sicuro che ci siamo usciti alle cinque, le tante, le tante, la soprattutto la... non c'è un talento così interessante perché... insomma, mi pare... Abbiamo fatto qualcosa... non lo so... a me... devo... vabbè, quanti anni mi avevo fatto? Una quindicina? Una quindicina. Una quindicina, però... a me ne piacciono in Paese. Due medicina e quanto tanto? Tre ore. Forse un po' di mente. Però non c'è una... un po' di mente. Oh. Però non c'è un po' di mente. Non c'è un po' di mente. Non c'è un po' di mente. Beh, se dopo ci siamo... non c'è un po' di mente. Sì, è il mio computer. Non c'è un problema. Se avete il computer, ce l'ha... Senti qua. Ma c'è un computer così... Magari... Io ho sfondato nel SESU, devo andare a prendere il lettore. Ma avete anche il materiale vecchio? Eh... Metto foto. Sì, ma... Metto foto. Grazie.